La corretta gestione alimentare di un cucciolo da parte del proprietario. La corretta gestione alimentare di un cucciolo è fondamentale affinché cresca in modo sano e corretto. Numerosi studi dimostrano come errori nell'alimentazione di un cucciolo possano predisporlo allo sviluppo di diverse patologie e condurlo a numerosi problemi durante la sua vita. Cosa dovrebbe fare quindi un proprietario per gestire al meglio l'alimentazione del proprio cucciolo? Cane o gatto che sia, dovrebbe evitare il fai da te, la somministrazione ad elibitum o l'utilizzo di integratori alimentari senza aver chiesto un consulto professionale. Non dovrebbe affidarsi completamente ad informazioni reperite dalla rete o da persone diverse dai veterinari o nutrizionisti veterinari che siano essi amici, allevatori o negozianti, ma per qualunque dubbio o necessità rivolgersi al medico del proprio petto. Non dovrebbe accontentarsi delle indicazioni presenti sugli alimenti commerciali, ma chiedere al veterinario di calcolare il fabbisogno del loro animale. Dovrebbe pesare con regolarità il cucciolo, segnare il peso e portare regolarmente l'animale presso il proprio dottore per controllare che la sua crescita sia corretta.